L'INAIL ha reso noti i dati sugli infortuni sul lavoro degli ultimi mesi. Vediamo. Oltre mille segnalazioni di infortuni sul lavoro da gennaio a luglio 2023 in Molise. I dati diffusi da l'INAIL relativi ai primi sette mesi dell'anno parlano però di un calo degli incidenti. Se nello stesso periodo del 2022 erano stati 1.576, nel 2023 se ne sono contati 1.800. E di questi 778 si sono registrati in provincia di Campobasso e 230 in quella di Isernia. Complessivamente le donne coinvolte sono state 368 pari al 37%. Nel 90% dei casi, in 904, gli infortuni sono avvenuti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Nei restanti 104 si è trattato di incidenti nitinere, cioè durante il percorso casa-lavoro. Secondo l'indagine è diminuito il numero degli incidenti mortali. I cinque erano stati nel 2022, mentre uno registrato nel 2023. A quest'ultimo devono essere aggiunti però gli ultimi episodi drammatici. L'8 luglio scorso marito e moglie hanno perso la vita nelle campagne di Baranello. I due coniugi agricoltori pensionati sono morti e schiacciati dal mezzo agricolo che si è ribaltato su un terreno vicino alla loro abitazione. Pochi giorni fa un giovane 35enne si è ribaltato con il trattore di famiglia precipitando in un burrone. Cigele Molise analizza le cifre e parla di numeri ancora troppo alti. Sono necessari sforzi sia a livello locale che nazionale, scrivono il segretario Cigele Abruzzo Molise Franco Spina e il coordinatore regionale Inca Cigele Mirko D'Ignazio. Servono il potenziamento di ispezioni e verifiche, il rispetto delle normative e la costruzione di una vera cultura della sicurezza attraverso la formazione continua. Anche per la sensibilizzazione a questo tema una delegazione della Cigele sarà a Roma il prossimo 7 novembre alla manifestazione La Via Maestra insieme per la Costituzione.